Buongiorno, sono Carlo Mariconda del Dipartimento di Matematica e in questo momento siamo nel 2017 anche advisor per l'e-learning dell'Università di Padova. Volevo mostrarvi qui i vantaggi di questa nuova lavagna che chiamiamo Lightboard. Questo serve per effettuare dei video didattici o di ricerca in un modo molto facile. Vediamo quali sono i vantaggi. Intanto il docente è frontale ed appare nell'immagine. È molto importante che la persona appaia in un video didattico. Non siamo girati a scrivere su una lavagna, siamo proprio davanti agli studenti e le scritte poi appaiono dritte, come vedete. L'altro punto interessante è che non necessita nessuna post-produzione. In altri termini basta premere il telecomando, avviare la registrazione, si scrive, si termina la registrazione e si estrae la schedina dalla telecamera pronta per essere inviata agli studenti. Pensate che in genere un video, diciamo, realizzato con la persona, con dietro le slides, richiede a volte una giornata di post-produzione. Quindi si parla di 10 minuti contro una giornata di lavoro. Oltretutto si possono anche far apparire delle slides, come qui abbiamo i loghi del Dipartimento di Matematica e dell'Ateneo, ma anche possiamo far apparire un grafico e scarabocchiarci sopra. Allora, questa lavagna è stata realizzata dal Dipartimento di Matematica e si trova nel Dipartimento di Matematica, grazie ad un direttore Marco Ferrante, che lasciatemi dire qui la parola giusta, illuminato. La mia idea sarebbe quella di averne una disposizione per l'Ateneo, come attualmente è la sala di registrazione del servizio e-learning e multimedia. Oppure, se dei dipartimenti sono molto interessati, realizzarne una per quei dipartimenti. Noi ci abbiamo messo un anno, Alberto Tonnolo, che è un mio collega, ed io, da quando abbiamo cominciato ad immaginare la cosa alla realizzazione e c'era anche un video delle istruzioni presenti in internet. È stata ideata questo tipo di lavagna da Michael Peskin, un fisico americano della Northwestern University. Ma dall'idea alla realizzazione ci ho voluto molto. Adesso noi abbiamo il know-how per realizzarle, non solo l'hardware, diciamo, ma anche tutto il contorno, come deve essere attrezzata la sala di registrazione, come devono essere piazzate le luci. Questo grazie anche a tutti i nostri tecnici del servizio e-learning e multimedia, del Dipartimento di Matematica, a tutte le persone alle quali abbiamo chiesto consigli. Quindi vi invito a scrivermi nel caso foste interessati o per dimostrare semplicemente il vostro interesse nella cosa. Magari il mio indirizzo è carlo.mariconda.it, magari mettete come oggetto Lightboard e sarò felice di darvi delle risposte o dei chiarimenti al riguardo. Arrivederci!